Dove sono i miei smeraldi? Che problemi hai? Mi sto organizzando? Alcune famiglie hanno una lunga stirpe di dentisti o avvocati, noi una lunga stirpe di delinquenti. Eccomi. Quello grosso e brutto è il mio gemello Mook. Io avevo i piani, lui le mani. Irby! Vabbè, 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 vabbè! Abbiamo comprato casa, ci nascerà una figlia. Fratello, insomma... Ormai ho smesso di rubare! Dopo questo colpo io sparisco. Devo andare a caccare. Uno, due, tre. Uomo lupo. Dracula, facciamo due su tre, se no. Dormo per terra. Secondo me l'uomo lupo batterebbe Dracula. L'uomo lupo c'è una volta al mese, Dracula sempre. Usa la testa. E' un nuovo inizio, no? Possiamo avere un po' di privacy. Che problema hai? Mamma. Cazzo! Ha ammaccato l'auto! Tu sei sparita da trent'anni. Più di così. Non posso scusarti. Tu non ti sei scusata per niente. Perché sei tornata adesso? Gli smeraldi. Valgono quattro milioni. Ho un piano. Ho un piano da fare in tre. Piano pessimo. Che nini nini! Attenti! Facciami il culo! Vuoi succhiarmi il cazzo? Ehi! Non fatemi venire lì, eh! Io rappresento la giustizia! Ok. Grazie, sì. Ciao! Ciao! Grazie per la visione!